Dati altalenanti nei comuni del Vesuviano tra nuovi casi e nuove guarigioni. Secondo l'ultimo bollettino a Torre del Greco sono state registrate nella giornata di ieri sei nuove guarigioni, certificati anche tre nuovi casi di positività al Covid-19. Muta così il bilancio della 564esima giornata consecutiva di attività del COC, totali ospedalizzati 12, totale in isolamento domiciliare 79, totali guariti dal Covid 6.781, totale decessi 176. A Torre Annunziata invece l'ultimo bollettino parla di sei nuovi contagi da Covid-19 a fronte di 77 tamponi processati con l'indice di positività che si attesta al 7,79%. Al contempo si registrano due guarigioni. Sono 68 i cittadini attualmente positivi. Le dosi di vaccino somministrate fino ad ora sono 51.686. 4.680 le persone che hanno contratto il coronavirus a Torre Annunziata dall'inizio dell'emergenza sanitaria, di cui 4.518 guarite e 94 decedute. Secondo invece il bollettino ordinario dell'unità di crisi della regione Campania, sono 406 i positivi registrati nella giornata di ieri, a fronte di 23.637 test. Si registra anche un decesso. Secondo invece il report dei posti letto su base regionale, sono 656 i posti di terapia intensiva disponibili, 21 quelli occupati. 3.160 i posti di degenza disponibili, quelli occupati 183.